A Tau Sicurezza si concretizza veramente la partnership tra Strano S.p.A. e Capto. Quali le grandi novità che presentate qui? Allora, quest'anno noi presentiamo a Tau Sicurezza Vitra. Vitra è il sistema invisibile per la protezione degli oggetti e dei perimetri esterni e interni degli edifici. Un sistema assolutamente innovativo, made in Italy, che permette di poter iniziare a pensare ai sistemi di sicurezza in ottica del futuro. Inoltre presentiamo anche tutta la nuova linea di sensoristica RX, specialmente il testudo, che è l'elemento dominante oggi del nostro stand. Un sensore con un design fortissimamente moderno per una protezione quasi invisibile dei perimetri esterni. Benissimo, dopo aver ringraziato Dario Strano, amministratore Strano S.p.A., passiamo ad Alessia, la promoter di Capto. Parlando di Vitra, come l'essenziale è invisibile agli occhi? L'essenziale è la sicurezza. E cosa c'è più sicuro di ciò che non si vede? Ciò che non si vede non si elude. Infatti qui abbiamo quello che sembrerebbe un semplice espositore, ma che al di sotto nasconde 12 sensori. Sensori passivi, senza alcuna parte meccanica o elettronica, non necessitano di alimentazione, ma si attivano solo nel momento in cui rilevano un cambiamento di stato, situazione, ovvero di pressione o depressione. Infatti vediamo qui, al momento del prelievo della nostra chiavetta, il nostro sistema d'allarme emette l'allarme. Questo sistema viene poi applicato in tutti gli altri ambiti. Sistemi di antiarrampicamento, antiintrusione, antiskavalcamento, protezione per ponteggi, porte e finestre, anche incementati e interrati. Tutto vitra e tutto invisibile.